Alessandro Zanardi da Castelmaggiorno è un uomo molto fortunato perché in questa sua vita ha già infilato un sacco di cose, sono la soglia dei 50 anni, mezzo secolo, è quasi incredibile che io sia ancora qui a giocare a livello atletico, a preparare una seconda avventura paralimpica, però credo che ciò che mi tiene in vita e mi tiene in vita bene sia la mia curiosità, la mia facilità di essere attratto da tante cose diverse, alcune delle quali diventano passioni molto forti per cui poi fare un lavoro, eseguire un progetto non è così complesso perché in fondo quando sei appassionato a qualcosa metti facilmente quantità e qualità, quantità perché se una cosa ti piace non ti basta mai, la faresti ogni giorno in ogni momento qualità perché diventi un perfezionista, il quasi non va bene, cioè se è il tuo gioco, se è la tua passione, deve essere tutto perfetto e quindi indipendentemente da quello che può essere il talento di base, la predisposizione di base, che ci deve essere logicamente, comunque è molto facile, puoi costruire sopra quel talento qualcosa di molto importante e fortunatamente mi è riuscito in tante cose diverse perché io nasco come pilota automobilistico e poi a seguito del mio incidente mi sono inventato questa seconda carriera sportiva nel ciclismo adattato con l'handbike che è un mezzo che francamente mi appassiona probabilmente molto di più di quanto mi avesse appassionato la bicicletta prima dell'incidente, ecco le cose nascono per caso, bisogna andarci un po' dietro però. La mia passione per l'handbike nasce in un modo abbastanza casuale perché un giorno stavo rientrando verso casa, io in quel periodo abitavo nel Principato di Monaco e mi ritrovai a, come posso dire, a sfidare un altro automobilista per lo stesso parcheggio perché entrambi lo avevamo puntato. Alla guida di quell'auto c'era Vittoria Bonestà e lui mi riconobbe, poi iniziamo a chiacchierare, fu incuriosito molto da quello strano aggeggio che aveva agganciato sulle barre portatutto sopra la macchina e lui mi spiegò di che cosa si trattava, cioè di questo handbike, del fatto che lui stava facendo attività, che in quel momento stava andando in Spagna per preparare la sua stagione agonistica, eccetera, eccetera. E ci lasciamo scambiandoci i numeri di telefono con qualche cosa che metaforicamente può essere considerato il primo mattone, no? Perché era effettivamente già nato qualche cosa. Al di là di questa bella sintonia con un ragazzo che oggi, oltre a essere un compagno nazionale, è anche naturalmente diventato un amico perché abbiamo due caratteri molto complementari e parliamo di un sacco di cose assieme. Quindi qualche tempo dopo, quando mi inventai in modo assolutamente casuale di fare la maratona di New York, chiamai Vittorio per sapere dove potevo trovare un mezzo del genere, soprattutto perché avevo bisogno un po' di un mentore, di qualcuno che mi aiutasse a recuperare terreno. Vittorio è stato il mio corso accelerato e poi simpaticissimo e affettuoso, mi verrebbe da dire, compagno d'avventura perché poi credo in modo reciproco ci siamo spinti l'un l'altro nel corso di questi ultimi anni passati a preparare assieme gli stessi obiettivi anche se fortunatamente in categorie diverse, quindi non c'è nemmeno spazio per gelosie un po' tipiche di quando in realtà si litiga per lo stesso centimetro di pista. E quindi è stata una bellissima avventura ancora più perché in questo percorso ho raccolto tante amicizie, Mario Valentini che è un capitano unico, non raro a trovare tutti i ragazzi, i compagni della Nazionale Italiana Paraciclistica, in particolare Vittorio, che nel mio caso specifico è stato presente e testimone sien dalla prima ora. Quando ho iniziato l'attività credo ci fossero molti pareri, giudizi, chiamali un po' come voi su questa mia decisione, tra l'altro di mettere in stand by tutti i miei programmi automobilistici perché io comunque in quel periodo stavo correndo, correvo a livello professionistico con un marchio ufficiale come BMW in un campionato che forse non è la Formula 1 ma è comunque un campionato molto esposto, campionato del mondo velocità turismo, con grandi soddisfazioni perché io nello sport sono diventato il primo atleta disabile a imporsi in una manifestazione iridata contro piloti professionisti, normodotati e quindi insomma una bella soddisfazione rimettere tutti gli avversari nello specchietto retrovisore a dispetto di. Eppure quando nacque questa passione per l'hand bike arrivai a dover fare una scelta perché comunque non è che puoi far tutto, soprattutto se ci tieni a fare almeno una cosa molto molto bene e per dar spazio a questa mia nuova passione occorreva appunto mettere perlomeno in attesa altri progetti e quindi decisi di fare questa cosa. Per le persone che mi avevano accompagnato fino a quel momento come potrebbe essere anche mia moglie molto competente sulla materia automobilismo perché io Daniela l'ho conosciuta in quel mondo era tra l'altro il mio direttore sportivo quindi anche con lei condivido la passione per i motori è una donna che è sempre stata anche un po' il mio manager quindi una donna molto intelligente molto competente sulla materia quindi lei non capiva bene questa cosa dell'hand bike al punto che mi guardava quasi perplessa perché agli occhi di tanti sembrava un po' il campionato del campanaro sagristano alla perpetua c'è la gara della parrocchia mi diceva ma come ma tu lasci quel mondo dorato per andare a fare quella roba lì e invece per gli addetti ai lavori di questo mondo probabilmente sembrava anche un po' una spacconata come dire ma questo adesso pensa che basta da due colpi di pedale viene qui ci mette in riga tutti lui non ha mica idea di quanto noi abbiamo sudato per arrivare sin qui io registravo queste cose però sai io credo che sia importante nella vita fare la propria strada e questa era quella che il mio cuore mi spingeva a scegliere per cui ho sincronizzato il mio cervello su quello che c'era da fare per trarre meglio dalla scelta che avevo fatto per viverla al meglio delle mie capacità lungi da me come posso dire il pensiero anche in quel momento di poter diventare ciò che sono oggi cioè campione olimpico campione del mondo e quant'altro però in qualche modo una forma questo orizzonte che inseguivo avevo già provato a ipotizzarla ero convinto di poter arrivare vicino ai più forti atleti della categoria certo impegnandomi ma io ero pronto a farlo perché in fondo se una cosa è davvero una passione è l'esecuzione del progetto ciò che ti regala gioia non tanto quel che trovi alla fine quando vai all'incasso del lavoro svolto nella gara più importante anzi io dico sempre che a londra nel momento in cui ho tagliato il secondo traguardo francamente mi ha salito anche un velo di tristezza perché in fondo quel capitolo della mia vita si concludeva con quel gesto per l'amor di dio nel miglior modo possibile però era comunque concluso sarebbero arrivate cose diverse nuove nuove avventure ma quel momento in quell'attimo finiva e quindi mi sono goduto tantissimo la strada nel momento in cui ho deciso di applicarmi per provare a diventare qualche cosa di simile a ciò che sono oggi a livello paraciclistico ero già felice perché stavo già facendo una cosa che per me era una figata pazzesca ecco e in più la mia ignoranza era ciò che guidava anche la mia passione perché quando sei ignorante è una scoperta continua no ogni giorno diventa un'occasione per non aggiungere qualcosa ma incamerare grandi progressi dopodiché man mano che scali la salita arrivi arrivi che cominci a intravedere la vetta e oggi probabilmente ci sono molto vicino non sono ancora arrivato perché tutto è perfettibile e quindi si può sempre migliorare spero di farlo perché obiettivamente gli anni come detto sono quasi 50 quindi per provare a confermarmi allo stesso livello a rio occorre davvero fare qualche cosa di speciale nella nella preparazione l'hand bike per me nasce così come una scommessa un po interessante perché ricorda ancora ero a branzec tra l'altro un luogo e un circuito automobilistico che ricorre spesso quasi in modo molto romantico nelle avventure che ho vissuto ultimamente e anche nei risultati speciali che insomma sono orgogliosa di aver conquistato ebbene lì in quel giorno ero per disputare una prova del campionato del mondo turismo che stavo disputando con BMW un amico manager di un'azienda che all'epoca rappresentavo come come testimonio alle ambasciatore del brand mi dice sai alessandro capisco che un grosso viaggio un grande impegno per dieci minuti di discorso però insomma noi organizziamo questo pasta party il sabato sera della maratona di new york ci farebbe molto piacere tu facessi un intervento ebbene la mia risposta fu fabio scherzi con grande piacere anzi sai che c'è visto che ci sono e che devo venire a new york quasi quasi la faccio pure la maratona e lui che è un maratoneta della prima ora un atleta ancora molto in forma oggi non corre più quella distanza ma insomma si tiene ancora in forma con un fare quasi della serie no tu non hai capito la fatica che ho fatto io per fare quella roba lì tu che non l'hai mai fatta mi dice no alessandro io te ne ho viste fare tante ma questa non si può fare credimi non puoi non è possibile tecnicamente è impossibile e siccome io invece sostenevo il contrario anche perché diciamocelo onestamente correre 42 chilometri a piedi è veramente tanta roba è contro natura filippine poverino che è stato il primo che l'ha fatto quando è arrivato a te ne è morto a me che non era allenato però insomma farlo su ruote è tutta un'altra cosa è decisamente più semplice quindi io avevo già intuito questa cosa ed ero molto fiducioso che insomma sarebbe stato sufficiente trovare un ritmo ma alla fine potevo arrivare tranquillamente a manata e quindi la mia risposta fu senti fabio tu preoccupati di scrivermi che non sarà facile a questo punto al resto ci penso io ed è lì è nato un po tutto no ecco dopo i primi colpi di pedale in realtà io ero già assolutamente innamorato di questo gesto ancora più che nel mezzo perché nel mio caso soprattutto l'handbike è uno sport veramente completo io ogni muscolo che ho è attivo ai fini della propulsione al fine della spinta e quindi è veramente uno sport fantastico tanto è vero che insomma io mi sono appassionato l'handbike come non avevo nemmeno osato immaginare quando prima dell'incidente praticavo il ciclismo nel modo in cui normalmente si fa cioè con una bicicletta l'handbike è veramente uno sport bellissimo poi oddio ognuno di noi ha gusti e attitudini diverse quindi magari ci sono persone che la pensano diversamente detto tutto questo insomma per un uomo senza gambe riuscire a salire su un mezzo del genere del garage di casa propria fare il proprio lavoro in totale autonomia rientrare nello stesso posto dopo magari aver provato il piacere di stare ore e ore all'aria aperta sentito la gocciolina di sudore che ti solca nuovamente la fronte ecco sono sono sensazioni che dopo aver perso le gambe io francamente credevo di aver perso per sempre e invece ho trovato nuovamente il modo di fare uno sport di resistenza che non è come dire la storia della volpe dell'uva è anche bellissimo e quindi e quindi lì è nato l'amore quasi subito successivamente ho capito che forse quella cosa che inizialmente avevo pensato solo come un ottimo sistema per tenere il mio fisico in ordine ecco propeneutica la mia attività di pilota in realtà poteva diventare qualche cosa di diverso e alla fine del 2009 ho deciso di provarci io credo che semplice fatto di vivere implica che prima il destino ci riservi qualche sorpresa alcune piacevoli altre ahimè invece sono momenti difficili e duri da superare dopo di che ognuno di noi ha un limite una soglia oltre la quale non c'è possibilità di reagire ci si arrende forse però va un po scoperta questa cosa io non lo auguro a nessuno logicamente ma io prima dell'incidente insomma mi ero ritrovato a chiedermi come reagirei in una situazione come quella che poi mi è mi è toccata e la risposta che mi ero dato era molto diverso dalla reazione che ho invece prodotto nel momento in cui è accaduto per davvero evidente che io non avevo non mi ero interrogato con con grande convinzione o serietà e quindi mi ero dato una risposta come dire superficiale ma se tanto poi comunque a me non accadrà mai è vero che statisticamente è difficile però 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 invece succede succede e anzi il giorno in cui mi ritrovai a parcheggiare l'auto presso centro ina il dove io ho effettuato il mio percorso riabilitativo mi sono anche poi reso conto visto la difficoltà nel trovare il parcheggio che che davvero non sei l'unico sfortunato sulla faccia del pianeta ecco penso che la condivisione che ho certamente un moltiplicatore della gioia è anche qualche cosa che aiuta molto a lenire il dolore il disagio comunque questo si presenta e dal mio punto di vista confrontarmi con altre persone che avevano già magari intrapreso ed effettuato percorsi simili a quello che io mi accingevo da a prendere mi ha aiutato moltissimo poi ho un carattere non so se siano stati i tortellini bolognesi o l'educazione dei miei genitori che cose però un carattere evidentemente molto positivo vedo sempre il bicchiere pieno non mezzo pieno e quindi nella mia indole evidentemente concentrarmi su ciò che posso fare ancor più che autocompiangermi o perdere tempo a riflettere sulle cose che non posso più fare e ciò che posso raccontare la mia testimonianza che in fondo se fai questo esercizio poi scopri che anche se hai dei limiti in realtà non basta il tempo per fare comunque tutte le cose che restano un po nel tuo mazzo di carte e quindi devi fare delle scelte devi scegliere quella più appassionante quella più bella non è logicamente una critica nei confronti di chi non è riuscito a far questo perché purtroppo ci sono anche queste persone però però mi piace anche raccontare che zanardi è solo un uomo molto esposto in realtà persone come zanardi sono la maggioranza di coloro che nella vita si si devono riorganizzare per per affrontare il tutto in modo alternativo i ragazzi miei compagni alla nazionale italiana paraciclistica hanno delle storie meravigliose da raccontare storie personali fatte spesso di ostacoli grandi come montagne ormai superati e gioia di vivere ecco però però ecco non sono soltanto questi ragazzi che sono poi come posso dire anche dei privilegiati perché fanno delle cose belle hanno l'onore di rappresentare il proprio paese in manifestazioni internazionali ecco ci sono anche persone che io ho incrociato nel nel mio percorso reabilitativo che che avevano delle storie meravigliose da raccontare e quindi e quindi ogni tanto forse manca un po come dire la voglia di girare la testa e cercarlo un esempio positivo che può essere anche una madre meravigliosa che con 38 e mezzo di febbre si alza e va comunque al lavoro al mattino perché c'è una famiglia da sfamare non è soltanto zanardi che ti raggiunge nel tg di mezzasera perché ha sparato l'ennesimo fuoco d'artificio della sua vita e quindi c'è qualcuno che deve raccontare per cronaca l'ennesima trovata di zanardi budri è un po la capitale dell'ortopedia non soltanto italiana ma del mondo io credo è un punto di riferimento che ha fatto scuola nel mondo del della protesica nella dell'ortopedia io poi l'ho ho frequentato al centro inail di vigorso in un periodo in cui c'erano ancora i vecchi che erano i ragazzi di bottega all'epoca del professor schmidl il fondatore del centro e quei ragazzi che sono diventati i suoi allievi e poi successivamente che hanno come posso dire portato avanti il percorso fantastico che lui aveva aveva creato facendo scuola e infatti poi alcuni di questi sono usciti dal centro che è diventato inail fondando delle proprie officine e quindi ecco per questa ragione budri è diventata un po la capitale dell'ortopedia e sfortunatamente non c'è concorrenza perché perché ci sono tante persone che hanno bisogno appunto della loro professionalità fortunatamente insomma loro sono in grado di offrirla perché perché la risposta che sono in grado di dare è perlomeno la migliore possibile ecco non si trova di meglio in giro per il mondo non è che andando in america o chissà dove uno riesce a fare più cose di quante non riuscirebbe a farne essendo trattato nel centro in uno dei centri di bodero mi viene da dire perché poi non è soltanto il centro inail ma anche l'rtm l'arte ortopedica le nuove officine rizzoli che sono in corso di nuova rifondazione centro inail è stata una grande scuola ma il livello è fortunatamente capace di fornire alle persone che hanno bisogno dei loro servizi risposte adeguate io mi sono sentito molto molto a casa perché quando arrivai al centro mi fu anche offerto oddio io chiesi di poterlo fare bruciare un pochettino le tappe si misero a disposizione per aiutarmi correndo anche un rischio perché rimettere in piedi zanardi probabilmente significava avere un'ottima esposizione quindi un'azione di comunicazione efficace per il centro ma anche una responsabilità perché se zanardi non si fosse alzato fosse addirittura caduto insomma sul centro magari qualcuno avrebbe puntato il dito in realtà il percorso che che mi hanno consentito di fare è stato molto efficace io credo di aver fatto il mio però a loro devo riconoscere il merito di avermi aiutato concretamente in più potermi confrontare con tante persone che vivevano in qualche modo un disagio simile al mio è stato molto importante perché poi tecnicamente vedere le soluzioni che altre persone avevano trovato la loro flessibilità nel rimettersi in marcia a dispetto di quello che era loro accaduto mi ha dato degli ottimi punti di riferimento molti dei quali magari ho copiato in pari pari altri che invece mi hanno ispirato per per produrre soluzioni congeniali alle mie necessità quindi è stato davvero il modo ideale per ripartire dopo il mio incidente londra è stata un'esperienza bellissima tra l'altro ancora prima di arrivare sul luogo perché ricordo che quando annunciarono diciamo l'ubicazione comunque il luogo scelto per ospitare i nostri eventi paraciclistici insomma fu un po' come posso dire mi venne un po' la pelle d'oca al pensiero che io sarei ritornato a Brands Edge su quel circuito automobilistico che mi è sempre piaciuto tantissimo dove sono sempre andato molto forte avevo conquistato delle pole position ma non ero mai riuscito a vincere una gara su quattro ruote per cui romanticamente ricordo di essermi ritrovato a pensare caspita vuoi dire che non sia l'occasione per raddrizzare per aggiustare il tiro una gara finalmente vincerla anche se solo con tre ruote ed è andata così quindi londra è stata un'esperienza magnifica fantastica che si è conclusa nel migliore del modi con Zanardi che alza la sua handbike con una mano sola una foto non per nulla pensata no scusa un gesto fotografato e non per nulla pensato ma estremamente efficace perché io il giorno dopo presi una mano in mano una copia del del giornale che credo fosse il times che aveva questa foto enorme in prima pagina e ne fui immediatamente colpito perché non fossi stato io il soggetto retratto avrei detto è bellissima sta foto foto più bella non potevano scegliere perché molto rappresentativa eppure io quella cosa lo scorta in quella in quell'immagine solo dopo averla vista a mia volta non non l'avevo affatto pensata nel momento in cui avevo pensato di tirare su l'handbike io ero solo felice per per ciò che ero appena riuscito a fare quindi essere stato anche il protagonista anche se in modo involontario di un gesto che ha lasciato chiaramente il segno non tanto per quello che rappresentava tecnicamente e sportivamente parlando ma in modo più ampio secondo me come 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 espressione del sentimento paralimpico che che a londra è stato diverso soprattutto nella percezione di chi ci ha guardato ecco credo che lo sport paralimpico sia stato definitivamente snoganato a londra essere diventato in qualche modo uno non non l'emblema e attenzione perché sono state le imprese meravigliose che devono essere raccontate e che molti già conoscono bene perché perché sono state imprese fantastiche eppure essere stato uno degli emblemi di quella paralimpiade è una cosa che resterà per sempre parcheggiata nel mio cuore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti